Oh raga, attenzione che Willy si sta preparando a nuova sessione di fotografia astronomica. Riproviamo, veloci. Monocromatica, sai, in bianco e nero. E lavora a una temperatura. E lavora, e lavora. Com'era? Ma che figata Willy. Si muove con un meccanismo elettronico di motore stepper, praticamente con movimenti micrometrici ed è precisissimo. Wow. Ti puoi alzare per favore? E andare fuori dalla parte. Levare gli occhiali, lasciarti i capelli. Guarda la pirouette. Attenzione. No vabbè, ma cos'è sta figata qui Willy? No, no. Neanche per un cash milionario. Va bene, perfetto. Al titolo, perché mi attacca, ma se... Sì, dimmi, dimmi. Mi posteresti la carta igienica? Ah, no, certo, certo. Tieni. Grazie. Poi, una volta poi sincronizzato, riesci a collegarti al database che sta in Arizona con tutta appunto la mano pastellare. Ma, scusa. Sì, dimmi, dimmi, dimmi pure, chiedimi. Mi posteresti la carta igienica? Certo, assolutamente. Grazie. Insomma, niente, no, ti stavo dicendo che una volta fatto questo, si sincronizza il tutto e poi puoi iniziare a riprendere. E in ogni posizione hai un filtro dove hai i tre filtri con i tre filtri colore, quindi rosso, giallo e verde. Sì, che va a f***. No, no, vada, ti una gazzata, è rosso per sera perché alla fine una volta che riempi un artista a 4 tera, ssd, cioè alla fine... Ho smiccato il punto, eh, lo so, è una volta che riempi un artista a 4 tera, cioè alla fine ci sta. Sono due colleghi che voglio presentarti e c'è Donatella. Sono Adrian, di Link for the Universe. Sono qui per parlare di astronomia, dell'universo e di come tutto è fatto. Ok, riesci ad avvicinarti, ok, va bene così e azione, Giampallo. Ah, ecco due colleghi, voglio presentarti Donatella. Azione. Aspetta, puoi partire troppo indietro rispetto a dove dovevo essere. Interessante. Un caso di autocrio conservazione. Bravo, bellissima. Partiamo... Guardate quanto si vedono bene poi i colori di queste zone. Pensate che questa è a 8.000 anni luce da noi. Sono così tanti che... No, aspetta, un po' troppo lunga. Anzi. Guardate quanto si vedono bene poi questi colori e... Quanto... Scusate. Peccato che non ci sia Willy ad ascoltare e a guardare. Ah, sì, Willy. È un po' troppo... Peccato che non ci sia Willy a guardare e ad ascoltare. Ah, sì, Willy. Che fine ha fatto Willy? Perché sti fa... Peccato che non ci sia Willy ad ascoltare e guardare. Eh, Willy. Sì, Willy. A proposito, dov'è Willy? Ma? Ma? Eh, eh. Ah, ok. C'è? No, oppure, certo che a Willy piacerebbe tantissimo vedere se ho fatto con l'aria. No, vabbè, teniamola così. È troppo adesso... Ce l'hai in nostra? No, non c'è più. Non c'è più manco. Format cheap. Sì. 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 Silenzio. Azione. Che poi appunto l'hard disk... Ragazzi? Ragazzi? Ma dove siete tutti? di... Grazie.